Al secondo seminario della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises, terza edizione di Catanzaro, in corso di svolgimento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia, è intervenuto il professor Carlo Lottieri dell'Università degli Studi di Siena, il quale ha svolto un'interessante e apprezzata relazione su cattolicesimo e liberalismo. Il seminario è stato introdotto da Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, promotrice dell'iniziativa, il quale ha sottolineato come il tema del rapporto tra cattolicesimo e liberalismo e in particolar modo della compatibilità o meno tra fede e morale cattolica da un lato e mercato come meccanismo di organizzazione sociale dall'altro sia molto complesso. È un tema che consente di sviluppare l'indagine lungoline diverse e molteplici che da secoli richiama l'interesse di economisti, storici, di giuristi, filosofi, teologi. Il professor Lottieri ha poi svolto la sua relazione muovendo dalla considerazione che nel corso degli ultimi due secoli la riflessione sul rapporto tra cattolicesimo e liberalismo si è sviluppata attraverso una riflessione sulla possibile compatibilità o meno tra la Chiesa e la teoria politica che pone al centro la libertà individuale. Molti lavori hanno indagato i tratti più illiberali del potere esercitato dalla Chiesa, si pensi all'inquisizione spagnola, oppure al contrario hanno mostrato come la stessa civiltà europea sia impensabile senza il contributo cattolico. Una parte notevole si è anche orientata in direzione delle ripetute tensioni esistenti tra i movimenti liberali e il mondo cattolico oppure verso quell'importante tradizione di pensiero da Acton a Bastia, da Rosmini a Enaui e a Sturzo che ha visto armonizzarsi la fede in Cristo è una difesa dell'autonomia dei singoli. Si tratta di studi interessanti ma che non esauriscono la complessità del tema. Pertanto, come rilevato dal professor Lottieri, solo cogliendo il contrasto essenziale tra Stato moderno e liberalismo classico, tra Stato moderno e religione, è possibile accostare da un punto di vista nuovo e più produttivo la relazione tra l'autorità cattolica e la libertà individuale. Solo approfondendo la dimensione teologico-politica della modernità, infatti, c'è modo di comprendere come esista un'assoluta incompatibilità tra il liberalismo e la potestas statuale, mentre lo stesso non si può dire per la relazione che connette la libertà dei singoli e l'autorità scattolica. In questo senso di che non si debba capire l'importanza di una cooperazione, un'intesa tra chi crede in Cristo da un lato e chi ha passione per la libertà della persona. La libertà della persona va difesa anche e soprattutto quando è ispirata religiosamente e non educata, perché in molti contesti, per pensare alla coronia, il senso si è nato proprio da forti esperienze religiose contro quella dell'espressione parossistica dello Stato che è stato appunto lo Stato socialista del Novecento. Al seminario hanno partecipato numerosi iscritti alla scuola i quali, alla fine della relazione, hanno avuto modo di proporre le loro riflessioni sul tema trattato e interagire con il professor Lottieri. Il prossimo seminario, il terzo della Scuola di Liberalismo 2011, si svolgerà il 4 febbraio prossimo, alle ore 15, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catanzaro. Interverrà come relatore il professor Pier Camillo Falasca, il quale tratterà il tema Soldi pubblici e soldi privati, il problema dei mezzi economici.